Per me è veramente un orgoglio poter debuttare in questo importantissimo festival dedicato a Verdi proprio con la Messa. Sono credente, sono cattolica, quindi per me ha un grandissimo significato. Già nella prima fase delle prove ho capito che il coro e l'orchestra sono di altissimo livello, avevo avuto solo l'occasione di ascoltarli come spettatrice. E anche con il maestro Abbado abbiamo trovato subito una bellissima intesa. E' importante dedicare questa Messa a tutti i morti della pandemia. Ho già avuto l'occasione a Bergamo con la Messa da Requiem di Donizetti, proprio davanti al cimitero di Bergamo. E questa è un'altra occasione che ho accolto con molta piacere. Grazie a tutti i nostri spettatori.